Ciao! Allora, intanto mi metto gli occhiali così vi vedo meglio. Sono qui che sto preparando la trasmissione di domani mattina, quella consueta delle 9.30, dove ci ritroveremo a parlare di musica, e normalmente lo facciamo parlando di musica rock, ma domani in realtà ho voluto cambiare qualcosina, e quindi voglio sì parlarvi di musica, ma di avvenimenti che sono accaduti nel mese di gennaio, magari la prima quindicina dei giorni del mese di gennaio, a partire dal 1900 fino ai giorni nostri, e quindi non ci sarà solo musica rock, ma ci sarà un po' di tutto, ci saranno curiosità legate ai nati, ai morti, agli album che venivano pubblicati, o addirittura come questa chicca, nel 1962, il primo gennaio, i Beatles vengono scartati a un'audizione della Decca, ed è considerato il più grande errore nella storia della musica rock. Bene, allora, questo è solo una delle tante pillole che vi racconterò domani mattina, i protagonisti saranno i King Floyd, saranno ad esempio i Beatles, la notizia ad esempio l'abbiamo appena data, o ancora Fabrizio De Andrè, eh sì, perché proprio a gennaio Fabrizio De Andrè moriva, ma la data ve la dirò solamente domani, nel caso non ve la ricordaste. Bene, quindi, io e il mio amichetto, che si chiama Metz, ci salutiamo, vedete anche lui ha le cuffie, insomma, è il mio amico DJ, è la mia scimmietta DJ, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani mattina alle ore 9.30 per parlare di rock, di musica, ma soprattutto di storie e di pillole legate alla musica dal 1900 ad oggi, ma nel mese di gennario. Vi aspetto ai puntuali 9.30, non mancate, e magari anche domani mi darete dei suggerimenti. Ciao! Ciao!